Buongiorno, il linguaggio, che strumento potente di cui gode l'umanità, strumento attraverso il quale comunichiamo, cooperiamo e raggiungiamo alte vette, iconicamente rappresentate dalla torre di Babele, dal tentativo dell'umilità di sfidare Dio e dalla conseguente punizione della diversità tra le lingue. Il linguaggio è dunque prerogativa degli esseri umani e da sempre costituita una vera e propria sfida realizzare uno strumento tecnologico che fosse in grado di emulare il linguaggio umano e adesso ci si è riusciti. Guardate un po' questo testo, ho chiesto al software di scrivere la storia di un gatto che voglia fare il dentista e guardate il software cosa è in grado, è stato in grado di generare una storia ricca, articolata, nonostante la sua passione e il suo talento, Max ha dovuto affrontare molte sfide nel suo percorso per diventare dentista e qui potrebbe essere un testo qualsiasi, ma poi ci si accorge che si entra nel merito delle caratteristiche del gatto. Per prima cosa infatti era un gatto e la maggior parte delle persone lo prendevano sul serio quando raccontava loro il suo sogno. Risero, gli dissero solo gli esseri umani possono essere dentisti e che avrebbero dovuto limitarsi a inseguire i topi e sonnecchiare il solo. Insomma un testo ricco, articolato, prodotto da un software. Sto parlando naturalmente, ne avete capito, di ChatGPT del cui funzionamento diremo qualcosa nell'ambito di questo video. ChatGPT è un software di intelligenza artificiale e quindi come avete imparato dai video precedenti poggia sulla realizzazione di reti neurali. Ricordate ne abbiamo parlato più volte, le reti neurali che emulano il funzionamento dei neuroni del cervello. Sono reti costituite da un gran numero di nodi distribuiti a livelli, a strati. Il primo strato codifica l'input, l'ultimo strato codifica l'output e poi abbiamo un certo numero di strati nascosti, strati intermedi che hanno il compito di trasformare l'input nell'output. E questo avviene come? Ebbene avviene attraverso dei collegamenti che ricordano le sinapsi dei nostri neuroni, così come i nodi delle reti ricordano il comportamento delle cedule neuronali. Collegamenti che fanno sì che lo stato di ciascun neurone di un determinato livello dipenda dal valore dei neuroni dello strato precedente nonché dal valore dei collegamenti. Collegamenti insomma sono dei valori numerici che servono a determinare, a calcolare il valore numerico dei neuroni successivi e ciò strato dopo strato. dunque il funzionamento di queste reti poggia sul valore dei collegamenti, dei pesi dei collegamenti. Ma quanti sono questi pesi? Sono miliardi e come fa un programmatore a determinarli? Ebbene come abbiamo spiegato in più di un video per fortuna le reti neurali sono in grado di imparare. Ricordate? Abbiamo illustrato l'apprendimento delle reti neurali in riferimento ad un'altra capacità che da sempre è ritenuta prelogativa degli esseri umani e non dei computer. Estremamente infatti difficile per i computer riconoscere in queste immagini l'immagine di un gatto. Sì perché dal punto di vista dei computer queste immagini sono una matrice di valori numerici, i pixel. Sono i valori numerici che definiscono il livello di grigio di ciascuna piccola areola. E allora come fare a riconoscere un gatto? Ebbene attraverso le reti neurali riusciamo a codificare l'input cioè ad assegnare un nodo a ciascun pixel. Poi codifichiamo l'output e l'output corrisponderà alle diverse possibili etichette che possiamo attribuire all'immagine. Per esempio tutti gli animali. Ci aspettiamo che la rete sia in grado di attribuire a questa immagine l'etichetta corretta, quella del gatto. E allora che si fa? Ebbene all'inizio la rete non è in grado di riconoscere alcunché e quindi si autoconfigurerà in maniera assolutamente casuale. Insomma getterà insieme di dadi che attribuiranno a ciascun collegamento un valore qualsiasi e quindi produrrà un risultato sicuramente catastrofico. Come fa poi la rete a imparare a migliorarsi? Ebbene bisogna fornirle dei suggerimenti. Per esempio fornirle delle immagini corredate della corretta etichetta. Insomma che gli si dica che queste immagini appartengono alla classe gatto. In questo modo la rete sarà in grado di affiancare ai valori scorretti dell'output prima generati quelli che avrebbe dovuto correttamente attribuire all'immagine. E quindi fare che cosa? Ebbene calcolare la distanza tra i valori scorretti e quelli desiderati. E tale distanza viene a costituire una vera e propria funzione matematica che come abbiamo dimostrato in un altro video dipende da che cosa? Dipende proprio dai pesi, dai parametri della rete. Questa funzione matematica va dunque minimizzata perché vanno minimizzate le distanze dei valori forniti in uscita rispetto a quelli desiderati. E naturalmente la minimizzazione della funzione di costo sarà tanto più efficace quanto più elevato il numero di immagini corredate con etichetta che si forniscono alla rete. Insomma l'esplosione dell'intelligenza artificiale è da attribuirsi sia all'elemento della potenza computazionale dei computer che permette di realizzare reti con un numero di nodi sempre più elevato, sia la disponibilità di un numero molto elevato di immagini di dati corredati con etichetta che il web fornisce alla rete. E va bene, ma come poi specificare questo modello che abbiamo descritto per le immagini al caso dell'elaborazione dei testi? Che significa fornire alla rete dei suggerimenti su come elaborare il testo? Come si fa ad insegnare alla rete a riconoscere un testo o a magari anche a generare del nuovo testo? Ebbene, osserviamo prima di tutto che così come la rete dispone di un'enorme quantità di immagini, di dare impasto alle reti neurali, è altrettanto elevata la quantità di testi di cui il web dispone da dare impasto alle reti neurali affinché studino su quei testi, imparino a partire da quei testi. Che cosa si fa affinché possano imparare? Ebbene, è difficile se abbiamo un qualsiasi testo, se ne copre una parte, lo si maschera e coprendo una parte specifica di un testo in chiaro ciò fa sì che l'output desiderato sia noto e che quindi anche in questo caso la rete è in grado di calcolare la distanza tra l'output desiderato e l'output generato imponendo pesi casuali. E non solo, ma la maschera la si può fare slittare via via lungo il testo e quindi via via di parola in parola riuscire a calcolare che cosa. Ebbene, di fatto la rete nel suo apprendere apprende la probabilità che una determinata parola compaia in un determinato contesto. La rete infatti neurale ha a disposizione il testo che fa da contesto alla parola mascherata e la parola stessa. Insomma la rete realizza una vera e propria analisi statistica del linguaggio che permette poi al software di conoscere la probabilità con cui una determinata parola può comparire in seguito ad una sequenza di parole date ed è proprio così che il software è in grado di produrre del nuovo testo, cioè note le parole precedenti, sceglierà la parola più probabile. A essere sinceri non necessariamente utilizza la parola più probabile perché come immaginate vi sarà un certo numero di parole quasi equiprobabili se non proprio equiprobabili, quindi casualmente sceglierà una tra le parole in cima. E essere precisi. Si è visto che se la rete scegliesse le parole in cima, quelle davvero più probabili, tuttavia generebbe un testo veramente piatto, freddo. Si è visto che le parole che stanno un pochino più in basso ci piacciono di più, rendono il testo più umano, più simile a quello che desidereremmo. E questo aspetto, la scelta delle parole può essere guidato da un parametro di configurazione di JATGBT che è la temperatura. Insomma possiamo decidere quanto più o meno freddo il testo generato sarà. E va bene direte voi sì, tutto molto interessante ma non ci crediamo che avendo a disposizione semplicemente l'analisi statistica del linguaggio il software riesca a produrre dei testi così articolati, così accattivanti come quelli che riesce a produrre JATGBT o software similari. Ebbene sì, effettivamente questo tipo di addestramento fornisce un'importante base di lavoro, ma il software ancora rischia di commettere dei grossi svarioni, dei grossi errori. Ricordiamoci che il test che è JATGBT, il software non capisce quello che scrive e l'analisi statistica sicuramente può produrre anche testi che abbiano un significato scadente. Infatti quella che ho appena descritto in maniera molto succinta è una fase di pre-addestramento cui segue una sequenza di fasi di addestramento più sottile ed è questa volta di tipo supervisionato. Ricordiamoci infatti che la fase di addestramento precedente non richiedeva l'intervento umano. In questo caso invece abbiamo degli esseri umani che forniscono alla rete neurale delle coppie di testo di input e di testo di output desiderato e così si alimenta la capacità generativa del linguaggio, della software scusate. Ora questa fase di addestramento più sottile è fondamentale e utilissima e lo potete capire molto onerosa dal punto di vista dell'essere umano anche perché JATGBT ricordiamoci avendo miliardi di parametri ha bisogno di un bel po' di coppie input output per funzionare correttamente. Non solo. Un'altra caratteristica che vorremmo avesse questo software è non solo la capacità di non commettere errori ma anche la produzione di un testo che sia possibilmente allineato con le nostre aspettative. Insomma se gli chiediamo cosa mangi per colazione una risposta così secca, arida, latte e biscotti è poco umana, non ci piace e guardate invece chat GPT che risposta articolata e accattivante restituisce. Per la colazione immagino qualcosa di leggero e nutriente magari una ciotola di yogurt eccetera e poi addirittura chiede tu cosa hai mangiato per colazione oggi? Insomma vorremmo che il software fosse quanto più possibile allineato con le nostre aspettative di quello che è un dialogo. E allora come si fa? Sarebbe veramente improbo immaginare che gli etichettatori, gli esseri umani fornissero coppie ingresso-uscita tali anche da imporre l'allineamento con i nostri desideri di una risposta adeguatamente calda, ricca e articolata e quindi ecco che interviene un'altra fase di addestramento. Sempre supervisionata però questa volta l'onere degli esseri umani è molto ridotta perché gli esseri umani non devono produrre in questa fase delle coppie ingresso-uscita ma devono semplicemente limitarsi a valutare le risposte fornite dalla rete neurale nell'ambito di una gamma, di un insieme di risposte prodotte. Insomma stiamo dicendo che per ogni prompt per ogni testo di ingresso la rete fornirà un insieme di possibili risposte e il valutatore si preoccuperà semplicemente di ordinarle, insomma di assegnare il primo premio a quella che gli piace di più e poi il secondo premio a quella un pochino meno accattivante e così via. ordinare le risposte in uscita viene quindi utilizzato dalla rete per imparare a diventare essa stessa valutatrice delle risposte fornite da un'ipotetica altra rete. Insomma la rete neurale impara a diventare una valutatrice, insomma prende il cosiddetto modello di ricompensa. Una volta che il modello di ricompensa viene appreso questo modello, questa rete viene utilizzata per valutare le risposte fornite da un'altra rete neurale, rete neurale che accoglierà quindi i prompt, gli input, le richieste di un qualsiasi utente, ne fornirà un certo numero e poi sulla base della valutazione del rete incorporante il modello di ricompensa fornirà la risposta che ha vinto il primo premio che prima in classifica. Il maestro insegna la tecnica senza spendere una parola sul suo significato. Egli aspetta semplicemente che lo studente lo scopra da solo. Tutto ciò viene detto tendere l'arco senza lasciar partire il colpo. Non dà spiegazioni, vero? Ma si comporta così non per crudeltà. Lo fa semplicemente perché vuole che il suo studente raggiunga la maestria non solo con la pratica ma anche con la totale partecipazione del suo cuore. Grazie e arrivederci.